Sono ormai 100 giorni che Monti è al governo, da quel 14 in novembre quando è stato chiamato per l'incarico. Di solito i 100 giorni sono considerati la luna di miele, dopo la quale comincia ad esserci qualche problema eventualmente, ma intanto facciamo il bilancio di questi 100 giorni. Che voto dai a questi 100 giorni? I voti lasciamoli ai professori. Io credo che come abbiamo detto più di una volta, come ha ripetuto ancora sabato il governatore al discorso del Forex, come abbiamo detto in varie audizioni parlamentari e come c'è scritto anche nel nostro bollettino recentissimo, il governo è intervenuto sul problema della finanza pubblica in maniera che noi riteniamo efficace, duratura e stabilizzante. Questo contributo è un contributo che ha in sé anche un elemento di sostegno alla crescita.